Saluto! Eh sì! La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. La parola d'ordine è la trasmettura ed accende i suoi amici. Vincere! Avete ascoltato la voce ben più degna della mia? Ciò che la patria si aspetta da voi altri. Tra poco, amelati, vi verranno affidate le brigne del paese E Dio briglie perché questo paese ha bisogno della briglia, del morso e della frusta. Ordine, obbedienza, disciplina. Basta con l'antistorica uguaglianza. Ma è chiaro a dire. Ma perché un ingegnere deve essere uguale a un muratore, ma la donna ad un dio? Soltanto i coglioni sono uguali l'uno all'altro. Bravo! Perché se questa è la democrazia, sapete che vi dico? Moschettieri, imbracciate il fucile! Artiglieri, innescate la miccia! Ingenieri, fuori i lamponi e sabotate le linee! Caimani, pugnale fra i denti! E distruggiamola questa democrazia! Schiacciamolo questo vostro infame! Evviva l'obbedienza! Evviva il comando! Evviva!